Ci interesserebbe, oltre all'analisi che abbiamo voluto fare finora, anche guardare a questa vicenda più approfonditamente nella politica della nostra regione, quindi guardando a quello che è successo con le recenti elezioni regionali, ovvero di fronte a tutta questa situazione, questo disastro regionale e non solo, Zaia ha vinto le elezioni comunque con il 52,2%, quindi ancora una volta si riconferma questa forza con il voto di circa un milione di persone, quindi va anche ricordato che è stata un'elezione in cui il PD ha perso il 16% e l'affluenza è stata il 57%, ci viene facile un confronto anche con il referendum greco che è arrivato al 62,4%, quindi cosa ci dicono questi dati, soprattutto davanti a questa situazione? Come è possibile che si torni di nuovo a questo sistema, che si confermi la fiducia a questo sistema e soprattutto quali sono le vie d'uscita da tutto questo? Vi chiediamo di aiutarci a interpretare questa situazione e facciamo il giro al contrario, quindi a Ernesto vorrei chiedere perché già avevate individuato, come dice Carlotto, una continuità tra Galania e Legaland adesso cosa si può dire? Il problema è quello del modello Veneto, che adesso non è che dobbiamo fare la tirata dagli anni 70 in poi ma è quest'idea che il Veneto sia diverso e anche per alcuni aspetti migliore del resto d'Italia quando poi invece c'è il lato B che dimostra come il Veneto è semmai il posto peggiore e che ha prodotto, adesso non è che dobbiamo fare la storia del petrolchimico di Marghera ma appunto assieme al lavoro ha prodotto morte e in questo caso negli ultimi anni insieme a le grandi e le piccole opere ha prodotto un sistema che sta in piedi a prescindere da Galan e probabilmente stare in piedi anche a prescindere da Zaia successivamente questo è il punto. Il punto vero è che questa è una regione in cui non c'è mai stata negli ultimi 25-30 anni una vera alternativa politica in campo, questo è il punto perché a me fa addirittura sorridere pensare che Benzic doveva essere l'alternativa del Veneto con Galan che debuttava allora perché Galan era ancora praticamente zero insomma con tutto il rispetto per Ettore Benzic mi pare un po' difficile immaginarlo come alternativa e se avete idea dei candidati Presidente alla Regione Veneto che si sono succeduti da allora all'ultima volta è una parabola discendente da tutti i punti di vista ecco forse bisogna magari, ripeto, guardare anche dietro le quinte perché faccio solo un esempio così ci capiamo e magari Renzo mi corregge se sbaglio l'80% del bilancio della Regione Veneto è sanità quindi di fatto chi ha in mano la sanità del Veneto ha in mano la Regione perché poi tutte le altre cose, autostrade eccetera sono esterne però per esempio la partita dei nuovi ospedali è legata esattamente a questo è mai possibile che nel sistema sanitario nazionale e anche sociale di fatto l'ultimo quarto di secolo sia stato co-gestito da pezzi di centro-sinistra e pezzi di centro-destra se è stato così ed è acclarato che sia così io poi non mi sorprendo se in questa provincia nel Partito Democratico quelli che prendono più preferenze sono due co-gestori riconosciuti per esempio e se dobbiamo cercare un'alternativa bisogna anche avere la capacità di riconoscere che il nuovo ospedale di Padova da 1,4 miliardi di euro concepito da Galan quanto volete ma su cui era perfettamente d'accordo il sindaco di Padova e dietro il quale c'era il sistema di cui abbiamo parlato per tutta la sera stride un po' se facendo quattro conti si capisce che un ospedale analogo si può fare con 700 milioni di euro che sono la metà e dubito che le cene nei ristoranti di lusso siano il resto l'alternativa si fa per esempio andando anche a cercare fino in fondo come funzionano alcuni meccanismi che sono sotto gli occhi di tutti perché in questa città basta alzare la testa e guardare le gru e vedere cosa c'è scritto sulla gru è il nome di un'impresa edile che ha fatto è di Treviso però ha fatto il nuovo orto botanico di fronte al nuovo orto botanico ha rifatto l'ex Antonianum ha cominciato a rifare il polo umanistico dell'università dove prima c'era l'ex ospedale geriatrico ha fatto il centro culturale San Gaetano ha una serie di interessi di altro tipo aveva la figlia del paron vicepresidente del calcio Padova e possiamo andare avanti a lungo ed è solo alzare la testa e guardare le gru se si fanno gli struzzi non se ne viene fuori altrimenti si tratta semplicemente di chiamare le cose anche col loro nome e col loro cognome ripeto la gestione della sanità in regione sarà o non sarà un problema che riguarda tutti è normale che nella stagione ultima Presidente, possiamo fargli tranquillamente i nomi Presidente Leonardo Padrin Vicepresidente Claudio Sinigaglia così è stata gestita la sanità del Veneto poi avete voglia a raccontare quello che volete ma gli ospedali sono tutti in project financing chi li ha realizzati compreso quello della bassa padovana sono sempre gli stessi Renzo Mazzaro ci spiegherà dello studio Altieri io mi permetto di aggiungere che poi c'è anche la Mattioli, il consorzio Consta le cooperative della Lega delle Cooperative perché basta andare a vedere anche lì i cartelli di chi ha realizzato per esempio gli ospedali questo è allora forse se si tira una riga e si comincia a dire che non è il caso di insistere non so chi verrà dopo Birra Ceres però serve soprattutto un altro modo di sforzarsi proprio di vedere le cose e di fare le cose perché se no è normale che tra l'originale e la fotocopia è sempre meglio l'originale grazie 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 grazie